La passione di Gesù Cristo di padre Gaetano da Bergamo 12 maggio Gesù al tribunale di Anna punto primo Anna e Caifasi succedevano l'uno all'altro nel pontificato anche se in quel periodo Anna non era in carica Gesù prima fu condotto da lui sia perché gli sgherri continuavano a seguire Giuda che andava a riscuotere da quel pontefice i denari promessi sia perché i soldati che lo avevano catturato volevano vantarsi di aver portato a termine quell'impresa che era stata più volte tentata in vano da altri come i cacciatori che dopo aver preso una belva feroce la portano in giro per farla vedere e se ne vantano così i giudei godono nel condurre Gesù di qua e di là per raccogliere applausi e lodi quasi avessero liberato il paese da un cospiratore entrati nella grande sala dove si trova Anna presentano a costui Gesù come fosse l'uomo più malvagio del mondo il sommo sacerdote approva la sua cattura si congratula con loro per essersi comportati da valorosi quell'uomo scaltro è seduto su di un sedile pregiato in un atteggiamento di uomo giusto è difensore della gloria di Dio mentre Gesù sta in piedi davanti a lui legato come se fosse colpevole di lesa maestà divina ed umana riflessione certamente con grande stupore gli angeli hanno ascoltato ed adorato gli incomprensibili giudizi della sapienza celeste vedendo quel sacerdote sacrilego che fa da giudice e Gesù sacerdote vero ed eterno che sia soggetta ad essere giudicato come fosse colpevole io invece dovrei provare spavento nel pensare che anche a me un giorno toccherà sottopormi ad un giudizio quello di Dio proprio come Gesù si è sottoposto al giudizio degli uomini in questo tribunale terreno Gesù oltre ad esercitare l'umiltà e la pazienza conserva nel suo intimo serenità di spirito e coraggio perché sa di essere innocente per cui nessuno può rimproverarlo neppure di una minima colpa non sarà così per me quando dovrò rendere conto di tutte le mie azioni davanti al giudice eterno ne potrò nascondere le mie colpe le mie cattiverie perché la mia stessa coscienza mi accuserà convincendomi di aver peccato colloquio mio Dio io imploro adesso per quel giorno la tua misericordia e per quell'amore che ti ha fatto accettare il giudizio di uomini scellerati ti prego di giudicarmi con clemenza ricordati signore che sei venuto in terra ed hai sofferto tanto per farmi ottenere il perdono e la vita eterna perciò ti supplico abbi pietà di me e non condannarmi all'inferno aiutami ora a preparare la mia coscienza per l'incontro con la tua giustizia ed arricchirmi di opere buone le sole che potranno giovarmi nel giorno del giudizio pratica l'unica cosa che potrà giovarmi di fronte ai giudizi del mondo di Dio sarà la testimonianza di una retta coscienza perciò non farò mai nulla contro la mia coscienza Grazie 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 Grazie